Buongiorno a tutti ragazzi, stiamo effettuando questo test di registrazione video con il Nubia Z11 Max Il sensore in questione è un Sony IMX298, un sensore che abbiamo già visto sulla famiglia degli Z11 Infatti viene montato dal Nubia Z11 Mini e dal Nubia Z11 Comunque nel frattempo sto camminando per testare la stabilizzazione digitale Comunque dicevo, questo sensore è un sensore da 16 megapixel con apertura f2.0, lenti a 6 elementi Autofocus PDF, come già detto, presenta una stabilizzazione di tipo digitale Nel frattempo siamo qui a Piazza del Gesù E poi ovviamente il Flash LED Dual Tone Vediamo se riusciamo a effettuare un pan veloce Adesso se riusciamo ad avvicinarci di nuovo al monumento per fare una bella macro Nel frattempo sto camminando a passo veloce quindi questa è la stabilizzazione Niente ragazzi, questo è quanto Ci vediamo con il test in 4K Ciao La test in 4K No